Tra sogni d'alta classifica e il vanto del vessillo cittadino, al Franco Maniscalco va in scena Città di Pomezia-Città di Aprilia, il derby dei Citizens della seconda categoria. Un match carico di suspense che esplode subito in avvio. E' il quinto, corner di Fusco sul secondo palo, arriva Sebastiani che di piatto destro incrocia ed è gol, vantaggio flash per Ipometini, ma è immediata la reazione apriliana. Al decimo, splendida punizione di Zotti sul primo palo, Cresafulli non ci arriva ed è subito 1-1. E' un continuo susseguirsi di emozioni. Al quarto d'ora, cross di Mainucci sull'out sinistro, Girace si avventa sulla palla come un falco, mira di piatto sul secondo palo ed è in rete. 2-0 e sorpasso Città di Pomezia. Gli ospiti non demordono e crescono alla mezz'ora. Profonda verticalizzazione di Lungarella per Bonomo. Cresafulli esce e si salva in estremis. E ancora Cresafulli, di pugno, rispinge una punizione venenosa del solito Zotti. La deabbendata li premia al trentottesimo. Liscio clamoroso di Caprioli sulla sciabolata tesa. Bassi si ringrazia e tutto solo davanti al portiere, al tempo di piazzarla e col mancino firma il 2-2. Prima del time-out è Fusco Shaw, punizione bomba respinta di pugno da Morelli. Poi, sul lungo possesso palla, splendido esterno destro dalla distanza che scende all'ultimo sopra la traversa e dà l'illusione della rete. Termina il primo tempo e all'imbocco degli spogliatoi, per eccesso di proteste, il direttore di gara è Spelle Zotti, protagonista fino ad allora del match. In avvio di ripresa, il città di Pomezia sfrutta la superiorità numerica e al settimo passa. Apertura prodigiosa di Toscano per Natoli. Stop è destro in controbalzo sul primo palo ed è 3-2. È un gol da Applausi. Di nuovo in vantaggio, i padrone di casa amministrano e alla mezz'ora mettono al sicuro il risultato. Su un break di Vatalaro, Toscano riceve palla. Cross al bacio tagliato verso il centro. Natoli si gira al volo e come un cigno la ficca all'angolino. 4-2 città di Pomezia. Mister Cavicchioli viene espulso per presunte espressioni blasfeme tra lo stupore generale, ma i suoi dieci ragazzi non mollano. L'ultimo ad arrendersi è De Santis, che impegna Crisafulli con una punizione calibrata dalla mediana. Poi, proprio allo scadere, inventa un dribbling incredibile. Prova l'esterno secco e Crisafulli si distende in corner. E finisce così. Tre vittorie su tre nel Tour de Force di aprile per il città di Pomezia, sempre più lanciato al vertice. I complimenti vanno a tutta la rosa della squadra perché se lo merito veramente. Al di là del risultato finale che può venire fuori, ma sicuramente se lo meritano tutti quanti. La partita è cambiata, è cambiata tantissimo perché l'abbiamo preparata in un modo e ci è mancato un po' il giocatore che faceva un attivino a gira la squadra. Tutto sommato è stata una gara piacevole. Grazie. Grazie.